Radio Radicala abbiamo qui di fronte a noi Emma Bonino. Emma, il voto slovacco. In queste ore il Presidente della Commissione Europea Barroso ha detto non ci sono problemi, la prossima settimana il Parlamento di Bratislava varierà il fondo salva stati e così anche l'ultimo paese di Eurolandia avrà dato semaforo verde al fondo di stabilità finanziaria. Ma è così semplice o così semplicistica tutta la questione? No, la situazione anzi è molto complessa e dimostra che non si può andare avanti così perché di fatto le decisioni sul fondo salva stati sono state prese a luglio sul rifinanziamento a 440 miliardi eccetera. Poi però il processo vuole che siano ratificate da 17 Parlamenti nazionali, quindi siamo il 20 ottobre e ancora non sono implementabili, non sono entrate in vigore appunto perché eccetera. E nel frattempo tutto questo lasciato ai Parlamenti nazionali ovviamente risente e entra nel circolo vizioso delle diatribe nazionali, per esempio il voto no ieri in Slovacchia è stato motivato come un no non tanto al salva stati quanto al governo. Quindi il che vuol dire che adesso indipendentemente cosa succederà se elezioni o meno in Slovacchia, il voto sarà ripetuto per una clausola regolamentare che loro hanno eccetera eccetera, ma insomma è evidente che una moneta comune e una politica monetaria comune non può dipendere da questo sistema di presa di decisioni che è delegata a 17 Parlamenti nazionali. Per cui se c'era bisogno ancora di una prova provata per dire guardate così non funziona, una moneta comune senza un ministro del tesoro comune non è mai esistito nella storia, non è mai esistita al mondo, infatti bisogna che riapriamo o riapriamo il trattato o facciamo un nuovo trattato, ma insomma non è proprio possibile perché una moneta comune senza un ministero del tesoro comune ha funzionato diciamo nel bel tempo, ma appena arrivato un dato di crisi il funzionamento istituzionale si è dimostrato inadeguato. Questo è il senso anche della lettera pubblicata oggi sul Sole 24 ore firmata da te e da tanti altri esponenti. Sì anche il senso però aggiunto ad un senso d'urgenza perché un po' per mancanza di volontà politica, un po' perché il sistema è così farraginoso, in buona sostanza da quando è scoppiata la crisi di fatto l'Europa ha sempre reagito troppo poco e troppo tardi. Quindi non è mai... e adesso siamo in una situazione, quello che diciamo in questo appello è che da una parte appunto l'Europa federale, l'unione politica eccetera eccetera a partire dal ministero del tesoro che però a mio avviso non è che poi si può limitare a gestire un fondo, un ministero del tesoro evidentemente poi deve assumere ma sarà per un dibattito sotto traccia per ora delle funzioni reali di raccogliere le tasse e di spendere su alcune funzioni di beni pubblici e di servizi. Io, noi da federalisti, proponiamo esteri difesa, tradizionalmente parlando, più probabilmente infrastrutture e ricerca. Insomma una specie di federazione leggera ma una federazione, non un... Nel frattempo però sentiamo tutta l'urgenza che poi è stata detta e ribadita anche ieri da triscea al Parlamento europeo quando ha detto guardate che la crisi è diventata sistemica e abbiamo in minuti contatti perché come diciamo nell'appello la forza di questa lettera e di questo appello è che mentre c'è una consapevolezza credo anche generale sulla questione del debito sovrano e del debito dei paesi a noi pare del tutto evidente che invece la crisi drammatica del sistema bancario e quindi del credito fosse meno esaminata e meno evidente mentre invece dalle banche francesi stiamo parlando di credito agricolo non è che stiamo parlando proprio dell'ultima banca diciamo della Provenza questo è invece il vero la seconda gamba della crisi che può anche portare a un blocco del credito con tutto quello che sta portando in parte sull'interbancare. ovviamente il che significa il blocco poi e la forza dell'appello è quello di dire guardate che le crisi in atto sono due che si rinforzano mutualmente e che se non troviamo un muro antincendio insomma che blocchi il contagio che vuol dire autorizzare il fondo di stabilità insieme con la banca centrale nell'immediato perlomeno di offrire un fondo di garanzia per le banche o addirittura di ricapitalizzazione come molti invece dicono però la ricapitalizzazione ci vuole un po' più tempo il fondo di garanzia può essere deciso subito evidentemente guardate che si arriva in una situazione in cui il contagio non si blocca e siamo alla Lehman Brothers e siamo al meltdown perché è chiaro che in assenza appunto di un'unione politica è chiaro che il crollo del sistema bancario eventuale è il crollo del progetto europeo. Poi io sono sempre più convinta che appunto i fatti lo dimostrano che il problema è innanzitutto politico prima ancora che macroeconomico o finanziario e sono convinta che bisogna salvare il progetto europeo per salvare l'euro e comunque se crolla l'euro è chiaro che è fallito il progetto europeo e l'Europa così com'è non è difendibile lo sta provando ogni giorno che è fuori tempo insomma fuori quindi bisogna reinventarsi un progetto europeo che io insisto a dire deve essere quello federalista che i padri e madri fondatori e fondatrici ci avevano ben detto ma non li abbiamo voluti ascoltare sì che credo che questa sia la situazione poi certo invece qui viviamo di sussulti di altro tipo eccetera. Mi pare di capire quindi doppio livello l'intervento di riforma li chiamiamo l'istituzionale sicura si chiamano a chiamare governance ma del sistema istituzionale dell'Unione Europea. Ci vuole l'unione fiscale e l'unione politica e poi un intervento questo serve tempo perché voglio fare un trattato evidentemente. Nell'immediato su tutta una visione finalmente un nuovo progetto europeo. Esattamente questo è un po' e credo che la forza di questo testo e di questo appello è che non solo affronta le due crisi ma da anche delle ipotesi di soluzione sia nell'immediato che nella prospettiva politica di medio termine. Io mi auguro che io poi non sono uno che ama i direttori non il franco tedesco credo che non si va da nessuna parte il metodo comunitario ma bisogna anche che le istituzioni comunitarie ogni tanto se lo ricordino insomma di far sentire la loro voce ma quello che noi ci auguriamo davvero è che tutto questo venga tenuto in considerazione per il vertice che dovrebbe ormai arrivare il 23 ottobre perché con questo modo di procedere del troppo poco troppo tardi in realtà abbiamo rincorso una crisi non l'abbiamo mai mai governata e quindi credo che questo sia ormai evidente evidente a tutti. Credo anche che lo stesso debattito interno alla Germania segni dei cambiamenti e che la tentazione del ce ne andiamo da soli e staremo meglio sia invece stata sconfitta perché da soli dove perché in un mondo dove al tavolo siederanno Cina, India, Brasile, Stati Uniti, entità politica eccetera è chiaro che uno può andare forte come vuole ma certo non si siede la Germania o la Turchia da soli o chi crede. Anche un Marco tedesco autonomo super super quotato sarebbe il fallimento dell'economia. Ma appunto ma non esiste proprio quindi è chiaro che questa visione può anche come dire non piacere a tutti e magari non essere neanche una base elettorale come dirvi populista o popolare però è la realtà dei fatti e credo che sarebbe bene per tutti che i leader politici invece di inseguire diciamo sentimenti populisti anche di opinione pubblica un po' in giro in tutta in tutta Europa dai veri finnici a qualunque altro finalmente invece esercitassero quello che è la responsabilità di una leadership.